Voglio presentare una lamentela alla direzione! Un riccio di mare! Che schifo! Mi lasci solo con questo cotoripilante, signora. Ok, non farti prendere dal panico. Dopotutto non è altro che un riccio. Dov'è il problema? Devi fare solo una cosa. Schiacciato e ridurlo in quantiglia! Ah, Squiddy, mi sembra che tu stia esagerando un po'. Che male vuoi che ti faccia un riccio? In fondo è una creatura di Nettuno, anche lui, uno crotturino. Guarda, è qui che faccio le mie gustose magie. Comincio scaldando la piastra. Senza metterla al massimo. Vuole che l'illustre il menù, monsieur. Ciao, ricetto di mare. A presto. Meno male che è solo un cucciolo. Ah! La, 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 la. No, 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 no. Ma come? Ehi, che cosa succede? Oh, no! La piastra è al massimo. I cedriolini. Tutto quel calore mi ha fatto rimpicciolire. Mi ha fatto rimpicciolire. La cucina è enorme. E anche la spatola è enorme. Per non parlare della piastra, che è enorme. Non mi ha fatto rimpicciolire. Non mi ha fatto rimpicciolire. Non mi ha fatto rimpicciolire. Adio! Mi sa che la piastra si è rotta. Beh, da sola non si aggiusterà mai. Questo è un piccolo passo per SpongeBob, ma un grande balzo per... ... ... ... No! 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 No!